L'economia sono passati 40 giorni dalla decisione della multinazionale Prismian di chiudere lo stabilimento di Ascoli Piceno. 113 i dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro. Siamo tornati nel giorno di Pasquetta nel presidio allestito davanti ai cancelli della fabbrica e la speranza ora è tutta rivolta all'incontro del 13 aprile al Ministero dello Sviluppo Economico. Barbara Marini. Eccoli i turni al presidio in questa settimana che parte con il lunedì dell'Angelo. Siete bene organizzati? Sì, organizziamo turni di quattro ore sia per la mattina che il pomeriggio, gruppi minimo di quattro persone. Anche nel giorno di festa, nella fredda Pasquetta scolana, i lavoratori si organizzano nel presidio allestito davanti ai cancelli della Prismian, la grande multinazionale dei cavi che all'improvviso ha deciso di chiudere uno degli otto stabilimenti italiani, quello di Ascoli Piceno. Ormai sono 40 giorni che stiamo qui, è una cosa che non riguarda soltanto mio padre ma che ha colpito anche me e è giusto che una persona, anche se 17 anni, si impegni. Anche da questo striscione, l'articolo 4 della Costituzione che tutela il diritto al lavoro, è partita una pagina Facebook dedicata al presidio che tu, Guido, curi giornalmente. Sì, questa frase è il cuore della Costituzione e abbiamo pensato di porre l'affondamento di un luogo, diciamo, virtuale intorno alla quale poi la cittadinanza si è riconosciuta e si è ritrovata. Sono oltre 7 mila e oltre ovviamente la solidarietà fisica che abbiamo avuto dei cittadini ascolani che vengono praticamente tutti i giorni a portarla agli operai e anche a noi figli, insomma, delle persone che lavoravano qui. Ci sono oggi persone che scrivono dalla Germania, dalla Russia, dalla Polonia, dal Sud America a dimostrazione che una piccola tenda nella Picena Prutina può veramente raggiungere, grazie alla rete, tutto il mondo. Ora tutti aspettano la prossima settimana. Il 13 aprile ci sarà un nuovo tavolo tecnico al Mise con i vertici dell'azienda e il vice ministro De Vincenti. Noi siamo fiduciosi e evidentemente andremo lì con la speranza di poter riaprire questo stabilimento, anche perché non abbiamo nessuna intenzione di mollare l'osso in questo modo qua. Andremo avanti fino alla fine.